Uomini e donne, l'ex dama Desdemona Balsano lancia la Maria De Filippi, in quel programma Finte relazioni. Desdemona Balsano si mostra con il suo amore, Giuseppe, dopo essere stata cacciata da uomini e donne. La dama del trono Over, che ha anche annunciato provvedimenti legali nei confronti di alcuni protagonisti della vicenda che l'ha vista coinvolta. Come Armando Incarnato e Gianni Sperti, ha più volte parlato del suo rapporto con il cavaliere Giuseppe. Eva Ingere le pesanti accuse ad Alessia Marcuzzi, Cannagate, ci sono rimasta male, le hanno dato brutti consigli. Simona Ventura e Giovanni Terzi, matrimonio in arrivo. Lui confessa, è arrivata dopo la morte della mia prima moglie. Tanti si sono chiesti come stessero andando le cose tra loro, fino a quando Desdemona. Intervenendo sui social ha chiarito, molti hanno erroneamente pensato che lui mi avesse volutamente lasciato sola ad affrontare il mio rientro in studio. A Giuseppe, uscito per seguirmi, e fatto accomodare nei camerini, nessuno aveva comunicato che io ero rientrata in studio. Mentre a me avevano riferito che non riuscivano a trovarlo. Beh, sarà stato un caso. Ora siamo qui ed insieme. I momenti difficili spesso tirano fuori il meglio delle persone e questa caduta è stata la scossa che ci ha fatto capire quanto è forte il nostro legame. Il mio unico rammarico è non averlo compreso prima. A confermare il loro amore un ultimo scatto postato dalla dama, in cui afferma, l'amore è quando non riesce a dormire perché finalmente la realtà è migliore dei tuoi sogni. Non tutti credono però alle parole di Resdemona, tanto che la coppia è appellata come falsi da alcuni utenti. Ma la ex dama duramente risponde lanciando anche una frecciatina al programma di Maria De Filippi, so che uomini e donne vi ha abituato alle finte relazioni. Ma vi dimostrerò che la nostra è vera. Andromeda, ăsta-i telul, îl execuți ca pe Maria Antoaneta. Aia de când mă știu, textul-i plin de dude, tu mere tante printre talea culte. Încerc flow-uri sute la show-uri buite, cum rup capete lumea de din capă rupte. Obele bat cu inima deodată, nu le opresc, că nu-s atât de nebun, mă gândesc tu ce crezi. Orice crezi, tine pentru tine, fie egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru piboiul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din toto, toți MC-ul care am crescut, pe scurt, de la un p*****.